A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l'edizione 2020 delle giornate FAI di autunno. Mille aperture in contributo libero in 400 città italiane, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18 e sabato 24 e domenica 25 ottobre. Anche quest'anno promotori e protagonisti sono i gruppi FAI giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la fondatrice e presidente onoraria del FAI, Fondo Ambiente Italiano. L'inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo, l'istangabile operosità per un futuro migliore, ispirandosi a lei, i giovani del FAI, con la collaborazione delle delegazioni degli altri gruppi di volontari della fondazione, scenderanno in piazza per seminare conoscenza e consapevolezza del patrimonio di storia, arte e natura italiano che accompagneranno il pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria alla scoperta dei luoghi normalmente inaccessibili, poco noti o poco valorizzati in tutte le regioni. Insomma, un calidoscopio di meraviglie nella proposta effervescente del FAI, dei suoi delegati che reagiscono con ancora più energia e impegno positivo ed entusiasmo al periodo difficile che l'Italia sta attraversando. È consigliabile la produzione online sul sito www.giornatefai.it. I posti sono limitati, nei due fine settimana apriranno luoghi diversi. Storiche dimore, signorili, castelli, giardini, sedi istituzionali, chiese, complessi conventuali e tante altre chicche come borghi, collezioni private, parchi, luoghi della produzione e del commercio solitamente riservati agli addetti ai lavori, si sveleranno attraverso punti di vista insoliti e racconti che meraviglieranno i visitatori, soddisfacendo insieme e accrescendo il desiderio di sapere la loro curiosità. Prendere parte alle giornate FAI da autunno 2020 vuol dire non solo godere della bellezza che pervade ogni angolo del nostro Paese e toccare con mano ciò che la Fondazione fa per la sua tutela e valorizzazione, vuol dire soprattutto sostenere la missione FAI in un momento particolarmente dedicato.